I miei uomini quasi perfetti, allora oggi ci troviamo davanti alla Fonderia dell'Arti e direi che è un posto unico nel suo genere, perché è una scuola di musica, teatro e di canto, perciò secondo voi che cosa siamo venuti a fare qua oggi? Regitare, cantare, 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 dovete cantare, sì certo con questa voce poi, stanno a fare i miei, comunque siete molto fortunati perché avete un insegnante davvero speciale, Maria Grazia Fontana, volete conoscerla? Certo, certo, ok? Se volete, mentre noi andiamo vi canto una canzone olandese, ok? Ok! Push em out come scari! Ho mai rice bra e ho ben saluto! Avete capito perché non canto io? Perché non sono in grado? Venite, venite! Accomandatevi! Buongiorno! Buongiorno! Ciao! Maria Grazia Fontana! Ciao! Buongiorno! 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 Eccoci qua! Allora, come ve l'ho detto anche prima, Maria Grazia Fontana e sarà lei che tenterà, con grande coraggio direi, di insegnarvi a cantare oggi, perché avete capito, oggi dovete cantare! Sono pronti di affrontare questa prova di oggi pomeriggio? Più o meno! Più o meno! Dai! Io non sono tanto convinto, eh! Noi siamo in gruppo degli stonatori! Roma non fa la stupida stasera! Marcello, Boni, Andrea e Fabrizio si stanno impegnando davvero molti, ma ce lo faranno ad essere pronti per l'esibizione di questa sera? Shhh! Devo parlare piano perché loro dell'esibizione di stasera non sanno assolutamente niente! Vi aspetto dopo la pubblicità! Bentornati all'Uomo Perfetto! Marcello, Boni, Andrea e Fabrizio, i quattro candidati della quarta settimana di treni, stanno cercando di tirar fuori il loro lato romantico, in vista di uno spettacolo molto interessante, ma imparare a cantare non è una passeggiata! Sicuro? No, più deciso! Eh? Se lo fai timido, timido il suono rimane lì! Per fa' cri cri! Ma l'allenamento continua! Via! Roma, non farla stupida stasera, damme una mano a faglie di desiderio, scegli tutte le stelle... ... ... ... ... ...